Sono almeno 16 le vittime del bombardamento russo sulla regione di Kherson, in Ucraina. Più di 20 persone sono rimaste ferite. Tra le vittime c'erano dipendenti di una compagnia energetica che stava riparando le reti elettriche dopo un altro attacco russo contro le infrastrutture ucraine, ma anche dipendenti e clienti dell'unico ipermercato aperto a Kherson. I bombardamenti hanno colpito anche una stazione ferroviaria. Un nuovo attacco missilistico ha colpito anche Zaporizia, distruggendo edifici residenziali. Secondo il Ministero della Difesa ucraino sono ben 10 le regioni bombardate da Mosca, con missili che hanno colpito oltre 100 infrastrutture civili. Ad essere prese di mira però sono anche le infrastrutture russe. Un serbatoio di stoccaggio di petrolio ha preso fuoco questo mercoledì nel villaggio di Volna, al confine con la Crimea. Martedì un'esplosione aveva fatto deragliare una locomotiva e diversi vagoni merci nella regione di Bryansk.